Sono appena arrivato a Milano per il sorteggio della fase finale del Contest Extra Kitchen. Finalmente siamo arrivati alla resa dei conti. 8 blogger di 8 regioni diverse d'Italia che si sono dovuti sfidare a colpi di video ricette, verrete abbinati in coppie e vi dovete sfidare per quella che sarà la finale che decreterà il miglior chef del web. Vediamo cosa succederà. Io mi sono buttata sulla tradizione, con una ricetta del cuore, il risotto alla milanese, chissà se verrà premiata. Vi devo dire, ho paura soprattutto di Erika, vi prego, non fate uscire Erika contro di me. Claudia, la mia sfidante, è una che è in cucina e i fornelli ci sa fare tantissimo. Per la sfida me la vedrò con Erika, ma non la temo e vincerò io. Che vinca il migliore. Ora il gioco si fa duro, solo uno di voi rimarrà. Quindi dovete mettere tutta l'energia che avete per diventare il miglior chef del web. Ciao. 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 Ciao.